Era notte quando dei malviventi a Gela stavano per effettuare un colpo in una gioielleria del centro storico della città. L'attività si trova proprio su Corso Vittorio Emanuele. Avrebbero tentato la spaccata, così una volta distrutto l'ingresso sarebbero poi riusciti a trafugare merce e denaro. Ma non è andata così. Fortunatamente in quel frangente delle guardie giurate che stavano facendo la loro attività di controllo, avvistati i ladri hanno subito dato l'allarme e i malviventi si sono dati alla fuga. Spaccata non riuscita quindi. Pare tuttavia essere la tecnica più adottata negli episodi dell'ultimo periodo. Infatti solo pochi giorni fa, anche a Caltanissetta, con la stessa tecnica, è stato portato a segno un colpo in uno dei locali più frequentati della città, in Viale Luigi Monaco, dove i ladri, dopo aver sfondato la vetrina con un'auto, hanno poi rubato tabacchi e registratore di cassa e si sono dati alla fuga. Episodi simili si sarebbero verificati nell'ultimo periodo anche a Licata e nel Trapanese.